Il movimento civico Molise domani si prepara a scendere in campo. Il primo importante banco di prova saranno indubbiamente le prossime elezioni regionali. Una voce nuova nel panorama politico che vuole rappresentare l'alternativa forte dei principi sui quali intende lavorare per un Molise inclusivo e sostenibile. Un concetto ribadito nel corso del simposio regionale che si è svolto a Campobasso alla presenza di esponenti politici di lungo corso oltre che di giovani levi. Noi ci poniamo come forza che cercherà di aggregare su di sé tutti coloro che dividono i nostri principi, i nostri valori e i nostri progetti. Non stiamo in questa fase proponendo nessuna lista e nessun candidato. Noi vogliamo che le forze politiche che condividono le nostre idee facciano fronte comune per il bene di questa regione. Quindi nessun discorso partitico? Per il momento assolutamente non vedo perché dovremmo fare un discorso partitico. non siamo contro i partiti, anzi siamo a favore di un rilancio e della riconquista dalla dignità dei partiti che hanno un ruolo fondamentale quando hanno una buona strutturazione. È fatta da persone che siano affidabili e credibili. Il discorso della leadership, anche quindi la candidatura alla presidenza della regione è ancora prematuro? Ma ancora non facciamo assolutamente discorsi di questo tipo. Ci interessano nemmeno i programmi, ci interessano i progetti. Noi ci siamo perché questa regione sta vivendo un momento di particolare criticità in tutti i suoi settori, economico, sociale, politico. La sanità è soltanto uno degli aspetti di criticità di questa regione. Noi nasciamo per cercare di dare una mano a risolvere dei problemi con le nostre proposte, con le nostre idee e di promuovere possibilmente una nuova classe dirigente che faccia come obiettivo soprattutto il bene comune e non il bene personale o della parte politica.